Siamo con Petronilla Narratone Traverso, che è uno dei soci sostenitori attraverso l'Advancy Trade della FAE di Genova. Che tipo di servizio offrite agli associati? Noi offriamo proprio questo servizio specifico di gestione del credito. Gestione che intende proprio la copertura totale per eventuali situazioni problematiche varie degli associati o di qualsiasi azienda, quindi le informazioni commerciali che servono per la prevenzione, tutto ciò che è molto interessante oggi giorno. Cioè conoscere chi hai di fronte, chi ti chiama, chi ti chiede a lavoro, eccetera. Io recupero crediti che oggi giorno purtroppo è assolutamente al primo piano. E poi concludiamo con la polizia di bilancio che serve proprio per dare, mettere in condizioni le aziende ed essere completamente a posto anche a livello bancario e tutto quanto. Quindi è gestione, il servizio nostro è gestione del credito. Quindi se un associato ha un'informativa da richiedere, non deve fare contratti vari, si rivolge direttamente all'associazione e la fai con noi, Advance and Trade, a disposizione tutti i servizi.